il misterioso tiene molto a quei cervelloni nemici sui sensori no Sì, dobbiamo localizzare la torre stabilitata. Jacob, la parabola dovrebbe essere tornata online. Affermativo, ma le torrette sono ancora disattivate. Dovrai riattivarle manualmente. Torna sul fronte della struttura. Altri nemici in arrivo! Altri nemici in arrivo! Stanno arrivando dall'alto! Dobbiamo farlo spostare da quell'arma! Muoversi, stiamo bassi e troviamo un riparo. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Dobbiamo andare lassù e attivare quelle armi antiaeree manualmente! No! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. L'altra arma è ancora disattivata. Raggiungiamola! Questo è raggiunto. Liberare e recettare. Ok. Qualcuno deve occuparsi delle riparazioni. Ida, devi pensarci tu. Provvederò alle riparazioni. Ok, James. Ci siamo. Forza! Come vanno le riparazioni? Richiedo tempo aggiuntivo. Forza! 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 Siamo qua. Dobbiamo solo resistere ancora un po'. Navetta 3 partita. Evacuazione completata. Quello era messo dai civili. Shepard, va attenzione, siamo stati invasi. Dobbiamo andarcene. Sto arrivando con la navetta. Va bene. Distruggiamo quel generatore di scudi. Stato, Mech. Jekhov, resisti. Libereremo una zalla da terrazzo. Jekhov, zona d'atterraggio libera. Questo posto è sovraffollato. Sto arrivando con la navetta. Ricevuto. Siamo. 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 Siamo.